Qual è la sua valutazione in merito? Il ruolo dell'internazionalizzazione in questo processo di selezione tra le imprese è stato fondamentale, nel senso che quello che emerge è che le imprese che il rapporto definisce global, cioè che esportano in più mercati e in parte anche le imprese che comunque svolgono sia il ruolo di importazione che di esportazione e quindi sono più connesse con le catene globali del valore, questi network che in qualche modo segmentano la produzione tra paesi diversi, sono le imprese che meglio hanno reagito in qualche modo alla crisi e che ne sono uscite meglio anche dal punto di vista finanziario e dal punto di vista della redditività.